Oggi ci troviamo a Feltre dal signor Donazzolo e abbiamo appena installato questa porta scorrevole sul sistema Eclisse, cioè all'interno del muro. In questo caso qua è stato fatto l'albero della vita di Feltre, scorrevole all'interno muro. Qua potete vedere l'installazione prima che passi poi il falegname perché noi montiamo il vetro, eccolo qua, sempre con la caratteristica della maniglia in materiale trasparente perché così non va a modificare tutto il disegno e si vede il disegno in tutta la sua bellezza. Questa porta va a dividere la zona del salotto cucina con la zona notte. Quanto ci abbiamo messo per installare questa porta? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora? È bene o male il tempo che ci mettiamo per installare sia una porta interno muro sia una porta esterno muro. Le piace? Molto. Molto? Era quello che desiderava? Sono venuto qua con un cataloghino tra l'altro, oppure hai visto qualche immagine su internet? Sì, sì, no, avevo visto in internet. Visto in internet? Sì. E come in questo caso qua anche abbiamo usato questa pellicola che è molto particolare, adesso ve le stavo dicendo, che se vuoi venire a vedere e anche a sentire con la mano, è liscio da tutte due le parti e la pellicola opaca, la pellicola sapinata all'interno del vetro insieme all'immagine. No, no, perché qua, ti spiego, questo corridoio porta al garage e quindi ci sarà la scarpa, il pelle, quindi questa va a coprire esattamente più possibile. In più si vede anche che può passare un po' di luce. Adesso io sono a questa parte qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.